Come preparare un unguento per i capillari rotti. Le proprietà dell'aglio, del succo di limone e dell'olio d'oliva si combinano in questo unguento per favorire la circolazione e ridurre i capillari visibili. I capillari rotti sono dilatazioni dei vasi sanguigni superficiali che si notano sulla pelle a causa della loro tonalità verdognola o violacea. Compaiono a causa dell'indebollimento dei vasi che regolano il passaggio del sangue, quasi sempre nella zona inferiore del corpo e, di solito, si manifestano prima delle vene varicose. A volte scompaiono senza arrivare a dilatarsi, mentre altre rimangono per anni senza causare alcuna complicazione. Sono più frequenti tra le persone in sovrappeso o d'obese, ma sono conseguenza anche dei cambiamenti ormonali, delle alte temperature e dell'uso di certi tipi di calzature. La buona notizia è che possiamo combattere e minimizzare i capillari rotti grazie a rimedi di origine naturale poiché la combinazione di alcuni ingredienti migliora la circolazione e allevia l'infiammazione. Tra le varie opzioni troviamo un unguento naturale all'aglio, ideale da applicare su gambe, braccia e altre zone suscettibili a questo problema. Unguento naturale per i capillari rotti Un unguento naturale per evitare e combattere i capillari rotti si ottiene dalla combinazione di prodigiosi ingredienti come l'aglio, il limone e l'olio extravergine di oliva. Essi concentrano un'importante quantità di principi attivi antinfiammatori, vasodilatatori e antiossidanti che, dopo essere stati assimilati, ristabiliscono la circolazione per ridurre il problema. La sua applicazione esterna riduce l'infiammazione dei capillari e dei vasi sanguigni, evitando complicazioni come le vene varicose. Possiede proprietà tonificanti che favoriscono la circolazione, dunque prevengono la formazione di trombi o odostruzioni nella zona inferiore del corpo. È indicato per attivare il funzionamento del sistema linfatico, essenziale per evitare problemi infiammatori e accumulo di tossine. Serve per rilassare le gambe tese o infiammate, soprattutto dopo una lunga giornata lavorativa o dopo aver svolto attività ad alto impatto fisico. Contiene minerali che vengono assorbiti dalla pelle, aiutando ad eliminare liquidi trattenuti nei tessuti. Non è un trattamento miracoloso, ma può essere integrato con dieta e sport per ridurre notevolmente i capillari rotti. Come preparare questo unguento naturale? L'unguento naturale a base di aglio, olio d'oliva e limone può essere preparato per prevenire i capillari rotti oppure come trattamento alternativo. Consigliamo, inoltre, di mantenerlo sempre alla propria portata per rilassare le gambe. L'importante è assicurarsi che l'olio d'oliva sia 100% extravergine, dato che i prodotti raffinati non dispongono delle stesse proprietà. Ingredienti 2 teste d'aglio 1 barra 2 tazza di olio d'oliva, 100 g, il succo di un limone Utensili Contenitore di vetro con coperchio Cucchiaio di legno Preparazione Estraete gli spicchi dalla testa d'aglio e pelatele Tagliateli a fettine sottili o, se preferite, triturateli. Collocateli in un recipiente di vetro e ricopriteli con l'olio d'oliva e il succo di un limone. Mescolate il tutto con un cucchiaio di legno finché il composto non sarà ben integrato. Chiudete il contenitore e mettetelo in un luogo fresco e buio per circa 48 ore. Trascorso questo tempo, filtrate la quantità di prodotto che considerate necessaria e applicatela. Modalità di applicazione Estendete il lunguento sulle zone da trattare e, in seguito, realizzate un massaggio per 5 o 8 minuti. Realizzate dei movimenti continui, senza esercitare troppa pressione, per riattivare la circolazione. Dopo aver ottenuto un effetto di calore nella zona, lasciate che gli ingredienti agiscano per circa 30 minuti. Dopodiché, sciacquate con acqua tiepida e asciugate. Ripetete il trattamento almeno 3 volte alla settimana, preferibilmente prima di andare a dormire. Tenete presente che, per ottenere buoni risultati, dovete seguire il trattamento in modo costante. Gli effetti non si ottengono con una sola applicazione. Avete notato piccoli capillari rotti sulle gambe? Pensate di soffrire di vene varicose? In questo caso, elaborate un unguento in casa e includetelo nella vostra routine di cure personali per mantenere una buona circolazione nelle gambe e nelle zone sensibili. Ricordate che, anche se positivo, tale prodotto non agisce da solo. Prestate attenzione alle vostre abitudini alimentari e incrementate il consumo di acqua per ottenere migliori risultati del trattamento di tale condizione.